GEAR, impianti elettrici e non solo L'azienda, installatore autorizzato di automazioni NICE, opera nella settore impiantistico. Provvede all'installazione e alla manutenzione di numerosi impianti, come gli impianti elettrici, pannelli e impianti fotovoltaici, antenne terrestri e satellitari, automazioni antifurto. La GEAR sarà a vostra disposizione con tutta la sua professionalità. L'azienda è situata a Sospiro, in provincia di Cremona, in via Donatori di Sangue 8. Per informazioni potete contattare il 335 54 41 771 o inviare una mail all'indirizzo gear2005 at alice.it.